Dunque, noi siamo qui fuori dalla prefettura di Monza per chiedere il reato di omicidio stradale. Noi vogliamo le pene certe, vogliamo che chi uccide una persona paghi la sua colpa, vogliamo l'ergassolo della patente, soprattutto per chi usa droghe, per chi è alcolizzato al massimo e soprattutto per chi va veloce in piccoli centri, cioè nelle piccole strade, causando la morte degli altri. Noi vogliamo assolutamente che venga rispettata la vita e l'unico sistema a nostro parere è quello di avere giustizia per i nostri morti. Se noi mandiamo una legge giusta al Senato, sicuramente diminuiremo, certamente i morti saranno molto ma molto meno.